Ma anche stamani è fatto forzale, siamo stati attenti, non abbiamo rischiato niente, bisogna vedere le prossime 24 ore. Si vede domani se è a disposizione oppure no. Per il resto tutti disponibili, credo ci sarà qualche problemino di abbondanza, ma si dice che sono falsi problemi questi, no? È d'accordo? Credo sia una delle poche volte, se non l'unica forse. No, bisogna vedere un vitto, perché sennò anche questa volta non siamo organi in completo, è abbondanza. Se vuoi vincere un campionato, o tentare di vincere, o lottare per vincere, o programmarlo per vincere, per forza ci deve essere abbondanza. Con 12 giocatori di solito non si vincano più mai. L'Alezzo va a giocare contro una Seravezza che non perde da otto giornate, ha il capo cannoniere del torneo, è una squadra in fiducia in questo momento. Dalle immagini che ha visionato, che sensazioni ha avuto su questo avversario? No, dubbiamente, questo è il punto. La squadra, abbiamo visto l'ultime sette, otto, sarebbe prima in classifica addirittura. No, no, da quando è cambiato l'allenatore, anzi, anche prima, perché fu esonerato il precedente dopo una vittoria, credo, contro la San Giovandese. E sono fiducia a una nostra strana che hanno fatto quattro vittorie, tre pareggi, la nuova gestione, di cui tre pareggi tutti in casa. E hanno vinto tutte le partite fuori. Però questo, non so, fino a che punto può essere indietro. Sicuramente la vostra sicura è che sono fiducia, hanno il campionato e hanno qualità, hanno qualità, una buonissima squadra. Che cosa ha chiesto alla squadra? Cosa chiederà alla squadra in questa partita, mister? Anche perché il ricordo di Terranova è ancora abbastanza fresco, anche se poi c'è stata la vittoria con la Flamante. Non credo. Le condizioni sono diverse. Le condizioni sono diverse. Un nostro errore Terranova, sicuramente si può dire a distanza di 15 giorni, è aver pensato che il terreno era gioabile. Cioè che il fondo, come ci avevano detto, è una falsa notizia. Domani, in sintesi, il discorso cambia tutto. Però dubbiamente il ricordo c'è e va tenuto a te sempre presente. Ma che ho detto di continuare? Spero che quella di domenica sia stata a 13 giornate alla fine, però si è già detto troppe volte. Però quella di domenica, in un certo senso nuovo rispetto alle precedenti, ce l'ha avuta. C'è una maggiore, credo, attenzione a tutto quello e non è esclusivamente giocare. Ecco, che noi fino allora siamo stati bravi a giocare quando c'erano le condizioni per giocare, molto meno quando non c'erano. Domeni invece abbiamo fatto una mezza strada e domeni, ecco, credo che ci abbia insegnato, guarda, se vuoi veramente arrivare, va su questa falsa riga. Io credo il messaggio sia questo. Le chiedo le condizioni anche di Arduini, di Damiani, per esempio, che sono due 2003. Se sono già in condizioni, anche di Persichini, ecco, se potrebbero essere pronti per giocare dall'inizio, se hanno bisogno ancora di un po' di tempo. Abbiamo organizzato apposta la partita giovedì, anche se l'input è venuto da loro, con il gruppo proprio in questo motivo, da minutaggio a giolatori che non avevano bisogno e tanto tempo e che non fanno la partita. Ecco, per esempio, sta molto importante averla fatta perché i 60 minuti che ha fatto Damiani sono stati indiativi, ecco, ci sembra che ci abbia detto ci siamo, ci sono, cosa che, se ti rimane precedente, assolutamente no. Il discorso anche degli altri è lo stesso, è lo stesso. Purtroppo, vedo, i mercati a gennaio, ora, Damiani è chiaro, è in casa a parte, perché lì è dopo un infortunio importante, ma gli altri vieni a gennaio, nei posti precedenti, giocavano, non giocavano, arrivi qui e come fai a dare continuità? Non è facile, il motivo per cui volevamo andare in Coppa, avanti in Coppa, era per questo motivo fondamentale, perché dai minutaggio a chi gioca meno in campionato e te lo ritrovi pronto nella bisogno di un campionato. La partita giovedì è stata importante per questo.